tele rompo con franco zotti e roby gorizia tv la movida a nova gorizia slovenia 9 7 2021 guardate un po' non è la finale italia inghilterra ma siamo a nova gorizia guardate che spettacolo i bambini che giocano con l'acqua il virus di gente il virus non esiste più ma cosa succede qua c'è il gruppo delta gruppo alfa non c'è più niente vero sua festa festa mattina sera ma cercarli pieni ma adesso però bisogna anche andare a gorizia a vedere se si combacciamo le feste dopo vediamo no stasera andiamo anche a vedere la gorizia si è bellissima questa fontanella magari diamo consiglio al sindaco magari la prossima fontanella che vuol fare no quella di piazza duomo sì quella di piazza duomo è per lavare le biciclette sì esatto dobbiamo andare a lavare le biciclette esatto sì però una fontanella così è bellissima d'estate perché i bambini magari si bagnano anche un po' i piedini ma si rinfrescano esatto te le rompo andiamo in missione